La terra ti suscita vibrazioni nel cuore, sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio o un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga il vento. Ti freghi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato o ti accade di udire un fruscio di gonnelle come al boschetto quando ballano le ragazze. Per Kuni Potter una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse semi-testa rossa quando fai il passo sul motivo di tour et l'or. Come potevo coltivare le mie terre? Non parliamo di ingrandirle. Con la ridda di corni, fagotti, ottavini che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa. Il cigolio di un molino a vento. Solo questo. Mai una volta diedi mani all'aratro che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. finì con le stesse terre, finì con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi e nemmeno un rimpianto. Grazie per la visione!